E' mai venuto qui da lei una persona che non ha mai creduto per esempio nel Signore ed è venuta da lei probabilmente per verificare questa presenza straordinaria? Sì, tanta gente viene qua che non crede, però una volta me l'ha promesso la Madonna, mi ha detto così, se c'è dalla tua pazienza le persone vengono curiose e se ne andranno convertiti, non la prima volta, non la seconda, ma ti lo prometto che la terza volta si converteranno. Lei si sente?